E adesso qui abbiamo un quadro che si chiama Entropia. Entropia è la seconda legge della termodinamica che ci dice che la materia cambiando di forma, divenendo praticamente, perde qualcosa, un po' di potenza, un po' di sostanza, un po' di forza. Io non voglio sembrare immodesto, ma secondo me non è esatto perché non è che perde, la materia non si perde, si stacca, si rimane nel fluire delle cose, nella trasformazione e allora c'è un dimagramento della materia e della sostanza. Vedete come in questo caso ho cercato di dare l'idea che oggetti, parti di materia, sono qui delineati, si avviano avviandosi nel caos come ciclicamente avviene sempre all'entropia. Questo è un quadro comunque, io raccomando ai miei collezionisti.